Grazie a tutti. Io ho scoperto che era stato già in matematico po' anche re tanti anni fa a definire la creatività in termini di due concetti che è novità e utilità ed è un po' la cosa che troverete un po' sempre durante questa giornata. Però essere creativi, almeno nella nostra interpretazione, non è soltanto essere originali che a volte potrebbe significare anche essere stranti, ma è fatto addirittura delle soluzioni che vengono considerate buone, originali e utili anche dagli altri. Ed è questo quello che troverete un po' in giro, diciamo, giocando, perché tutte le cose che strutturrete potranno essere riutilizzate da altri per produrle poi altre in una sorta di catena di innovazione. Mi fermo qui perché sicuramente Anna Maria è molto più chiamata di me. Se avrete modo di leggerla, leggete il suo libro, La trama lucente. Io l'ho letto come se fosse un romanzo da felice, mi sono divertito tantissimo, ho imparato tantissimo. Buongiorno a tutti. Io ho scritto più di 400 pagine sulla creatività e non posso darvene conto in un quarto d'ora. È un fenomeno complesso, affascinante, variegato e mi sono proposta quindi di darvi alcune intuizioni, alcuni elementi, alcuni indizi di che cosa può essere creatività. Dei piccoli punti di appoggio che voi potete unire creando il vostro disegno. Andrò via veloce, parlerò per un quarto d'ora circa e poi alla fine se volete ci sarà tempo per qualche domanda. Questa presentazione si intitola La creatività come atteggiamento mentale, cioè come orientamento ad essere curiosi, a non considerare le cose come stanno, come se fossero nell'unico modo possibile in cui possono stare e a farsi domande e a perseguire il nuovo. Ma se andiamo a cercare bene, a cercare una definizione, che cosa possiamo definire creativo? E' una bella domanda, ed è una domanda a cui sono state date migliaia di risposte nel corso del secolo scorso. In precedenza si pensava che non si aveva percezione che esistesse una facoltà umana diffusa e propria a tutti, chiamata creatività, si pensava che ci fossero rari geni capaci di cambiare il mondo e che il resto delle persone vivessero le loro vite senza particolari capacità di innovare. E' il novecento, con la scoperta dell'inconscio, con la scoperta della ricchissima vita psichica che ha ciascuno di noi, a mettere in evidenza l'enorme universo creativo che sta in ciascuno di noi. Ecco, oggi sappiamo che la creatività si esprime in due grandi campi. Lo scoprire, cose che ci sono ma su cui, delle cui dinamiche non avevamo mai immaginato, e pensiamo alla dimensione scientifica e a quanto le scoperte scientifiche hanno cambiato il mondo e hanno disegnato nuovi mondi. E l'altra dimensione della creatività consiste nell'inventare, cioè nel mettere a punto sistemi, mondi, istanze, discorsi che non esistevano prima. Quindi la nostra creatività si esprime su due assi, nell'interpretazione creativa dell'esistente, nell'invenzione di qualcosa che prima non esisteva. Si scopre facendosi domande che nessuno si è mai fatto prima. Si inventa combinando elementi che già esistono in sistemi nuovi. Se volete un altro piccolo indizio, è proprio della creatività scientifica lavorare per analogie, cioè facendo paralleli tra ciò che già si conosce e ciò che si va indagando. Un classico è come funzionano le onde sonore, come cerchi nell'acqua quando buttiamo un sasso. Davvero il signore che ha capito come funzionavano le onde sonore ha usato questa analogia. Ma tantissima della creatività scientifica è fatta, si fonda su analogie. Questo somiglia a quest'altro. Tantissima della creatività artistica si fonda su metafore. Non è più una cosa come un'altra, ma due cose che collassano insieme. Per cui il tramonto non è rosso come il sangue, ma il tramonto diventa di sangue. E la metafora porta la vibrazione drammatica del sangue dentro lo spettacolo del tramonto. E se volete fare creatività scientifica usate le analogie, se volete fare creatività artistica usate le metafore. La creatività è dappertutto. E ce ne rendiamo conto soltanto guardandoci attorno. Immaginate che l'umanità non sia mai stata creativa e tutto quanto ci circonda sparisce. Spariscono le lampadine, sparisce la plastica, sparisce il microfono, sparisce l'energia elettrica. Spariscono i nostri abiti perché nessuno ha mai inventato il telaio e nessuno prima di questo ha inventato la filatura. Spariscono gli occhiali, sparisce il linguaggio, la più grande invenzione dell'umanità. Quella che ha permesso che ci trasmettessimo cultura e che fossimo in grado di fare tutte le altre invenzioni. Se l'umanità non fosse creativa, qui dentro ci sarebbe un gruppetto di strani animali che si annoiano in attesa del pranzo. Tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che siamo, deriva dal fatto che siamo una specie creativa. Che è creativa da tantissimissimo tempo. Un altro equivoco da sciogliere riguarda il fatto che la creatività non è qualcosa che si studia, non è una conoscenza, non è neanche una scienza, cioè non ha regole fisse eccetera. Sarebbe fantastico se esistesse una scienza dura della creatività che ci dà una serie di formule seguendo le quali possiamo inventare il nuovo. Non mi risulta che sia così sicuramente, e forse i nostri amici di Crayon li troveremo, ci sono delle ricorrenze. Ma pensare che esista una formula della creatività fino a prova contraria, in specie della creatività artistica, mi sembra improbabile. Sicuramente ci sono ambienti che favoriscono, ambienti che sfavoriscono, processi che aiutano e processi che impediscono. Ma pensare che tutta la creatività umana funzioni sempre alla stessa maniera, senza componenti per esempio di caos e di serendipity, mi sembra improbabile. La creatività è una capacità, è una capacità che la nostra mente ha e che possiamo sviluppare in modo semplice, esercitandola, ponendoci domande, giocando come sarebbe se, cambiasse qualche dato, provando tutte le volte che possiamo a immaginare qualcosa che non c'era. Entriamo un po' nel merito della definizione della creatività che ci danno i dizionari per capire che cosa c'è dentro davvero. Il devoto Olli dice che la creatività è una capacità produttiva della ragione o della fantasia e parla di talento creativo. Lo zingarelli dice capacità creativa, facoltà inventiva, la creatività dei bambini, la capacità di produrre nuove idee, invenzioni, opere d'arte, eccetera. Capacità del parlante di usare il linguaggio. Entriamo nel merito. Il dizionario ci dice che è una capacità, quindi è una cosa che dobbiamo coltivare, non è solo una dote innata. Ci dice che è una capacità produttiva, questo significa che la creatività è sempre finalizzata, non è pura espressione di sé, è un'espressione di sé orientata a ottenere un risultato. E' la produzione di qualcosa di nuovo che sia appropriato, cioè utile. Ci dice che è una capacità della ragione o della fantasia, cioè che coinvolge sia il pensiero logico, sia il pensiero analogico. Ci dice che è una capacità di produrre nuove idee, quindi la creatività è preliminare all'innovazione. Non può esserci innovazione di processo o di prodotto, cioè il fenomeno per cui un'idea nuova si diffonde nel contesto sociale, se prima qualcuno non ha avuto quell'idea nuova. E spesso quando si dice investiamo nell'innovazione si dimentica che è assurdo investire in innovazione, se prima non si investe in creatività. E per inciso il maggiore investimento possibile che possiamo fare in creatività riguarda la scuola. Il dizionario ci dice che ci parla di invenzioni e ci dice implicitamente che la creatività comprende arte, scienza, tecnologia. Ma ci può essere creatività nello sport, così come c'è creatività nel gioco degli scacchi, nella cucina, ovviamente nelle arti, nelle scienze. Il dizionario ci dice, ci ricorda che la creatività è connessa con il linguaggio. Aggiungo e sottolineo che questo è importantissimo, il linguaggio è una metacompetenza, cioè una competenza che ci permette di appropriarci e di esprimere mille altre competenze. In sintesi, come diceva Poincaré, la creatività consiste nell'unire elementi esistenti in combinazioni nuove e utili. O nel sistemare, se parliamo di creatività scientifica, elementi esistenti in combinazioni che siano nuove e utili. Nuovo vuol dire inedito, mai usato prima. Questo significa anche che oggi, forse una volta no, ma oggi, la creatività è sempre competente e istruita. Se non si va a vedere che cosa già c'è, si rischia di inventare l'acqua calda. Da questo punto di vista, internet è un grandissimo strumento di creatività perché ci mette a immediata disposizione lo stato dell'arte di tutte le competenze mondiali. Ma quando parliamo di nuovo e utile, ribadiamo anche che il processo creativo, il pensiero creativo, deve sempre porsi il tema della proprietezza e del valore delle idee che produce. Ed è un valore che non necessariamente è solo economico. Può avere tante dimensioni, può trattarsi di valore etico, può trattarsi di valore estetico. Ma solo ciò che è utile, cioè che esce da me e che un altro essere umano, un altro individuo, o che il mio gruppo sociale trova utile, può essere collettivamente riconosciuto come creativo. Da questo deriva un fatto mica irrilevante. La creatività non è un fenomeno individuale. È un fenomeno che ha origine individuale, ma il suo punto di verità è sociale. Io non posso darmi da sola lo statuto di creativo. Sarò un creativo nel momento in cui almeno un altro essere umano trova che ciò che ho pensato è insieme, nuovo e utile. In questo la creatività somiglia molto alla comunicazione. Io comunico non se mi esprimo, ma se un altro essere umano riceve ciò che ho comunicato. Quindi a decidere che io comunico è sempre l'altro, così come a decidere che io sono creativo è sempre l'altro. Questo ci dice anche che siamo ben connessi fra di noi. Come funziona tutto ciò? Di creatività hanno cominciato a parlare, a studiare tanto nel secolo scorso. Uno dei modelli più semplici del processo creativo, quello messo a punto da Wallace nel 1927, è ancora valido. C'è un momento di preparazione in cui si mettono insieme tutti gli elementi e ci si informa, e ci si prepara e si mettono sul tavolo tutti i dati del problema. Uno dei peggiori errori che si fa, specie per eccesso di entusiasmo di solito, è cominciare senza essersi preparati, senza essersi informati. La creatività è prima di tutto preparazione. Una volta che si hanno ben chiari i dati di un problema, il nostro cervello comincia a ragionarci, e non solo quando ci ragioniamo in maniera intenzionale e consapevole. Il processo creativo va avanti, spesso di notte, spesso nel sogno. E a un certo punto, sarebbe bello capire quanto ma non l'è detto, viene fuori, dice Poincaré, un'intuizione nuova, rotonda, importante, che quasi sempre non somiglia a niente di ciò che si era pensato prima. Se volete gestire i processi creativi vi do una piccola dritta. Di solito le prime cose che vi vengono in mente sono delle ovvietà. Un modo per accelerare il processo creativo è buttare via le prime cose che vengono in mente, essere ben preparati e poi lasciare che a un certo punto si formi un'intuizione che mette insieme gli elementi a disposizione in un modo davvero diverso. L'ultimo punto del processo creativo è ugualmente importante, verifiche. Non è detto che tutte le cose che ci vengono in mente funzionino. Così come è necessario prepararsi prima, è necessario dopo andare a vedere se ciò che si è prodotto ha davvero un senso, una funzione e un valore. Io mi occupo di scrittura creativa anche, questo significa per esempio quando si scrive di rileggere e ricorreggere e ricorreggere e ricorreggere. Nessuna prima stesura è mai la stesura ottimale. Questo sviluppo del processo creativo ci dà anche una sensazione di ciò che è in gioco nel corso dell'atto creativo. Sono in gioco le competenze, il sapere e il saper fare. Bisogna essere focalizzati, cioè concentrati sul problema, ma non così focalizzati da perdere di vista tutta l'intera gamma dei possibili, delle opzioni e delle possibilità. Bisogna essere orientati perché altrimenti ci si perde un altro dato rilevante del processo creativo che è un processo solitario ed è un processo per gente tosta. Nel momento in cui si abbandona il sistema delle consapevolezze precedenti e ci sia avventura in un universo nuovo, sia l'invenzione di un piccolo haiku, sia l'analisi di un fenomeno assai complesso, comunque sia soli. E bisogna essere tenaci, bisogna stare attenti a non perdersi di direzione. E poi l'altro dato importante che ci dice la sequenza di Wallace è che la creatività è sempre, vi hanno detto, la creatività è una faccenda dell'emisfero destro, che è innovativo. Non è vero, prima di tutto si è scoperto negli ultimi anni che non esistono due emisferi che litigano tra di loro. Tutto il processo di pensiero dentro il cervello è integrato e avviene per macro aree e grandi sistemi. Ma lo stesso processo creativo avviene per una costante alternanza di pensiero logico, razionale, lento e di pensiero intuitivo, analogico, veloce. In un processo di soluzione di problemi questa sequenza funziona una volta fino ad arrivare alla soluzione. Ma se affrontiamo un problema a n soluzioni, come la scrittura di un romanzo, questo processo idealmente si riproduce per ogni frase che scriviamo. e poi per ogni capitolo che rivediamo e poi quando rivediamo l'intero romanzo. Quindi potete vedere il procedere della creatività come un sistema frattale in cui piccoli atti creativi configurano poi tutti assieme un grande atto creativo. Siamo tutti creativi, come no? Certo, con varie consapevolezze e in varia misura. La cosa vera è che più sappiamo, più possiamo inventare. Questa è una delle cure più emozionanti che possiate vedere. Consiste nel progresso e nell'incremento e nella diffusione della scolarizzazione dal Novecento a oggi. Fino al Novecento, bene o male, a essere fortemente scolarizzati, erano delle super elite. i figli dei ricchi, delle classi dominanti e basta. Una frazione minima dell'umanità. Stiamo avviandoci a un punto in cui il 70 e oltre il per cento dell'umanità, ma mica fra tanto, nei prossimi 10-20 anni, il 70 per cento dell'umanità avrà forti competenze e un forte accesso all'informazione. Avete presente che cosa significa in termini di potenzialità creative del genere umano? Quando le conoscenze che diventano limitate a pochissime diventano estese, espanse con l'enorme empowerment, direbbero gli americani, del web. Gli animali sono creativi? Certo che sono creativi. Sono creativi quando devono trovare da mangiare, ma sono creativi in maniera lenta, casuale, sono creativi mettendo appunto nuovi comportamenti per trovare il cibo, sono creativi perché gli tocca far esserlo per sopravvivere e quando c'è attorno a loro una moderata pressione ambientale, cioè quando il cibo è disponibile ma non facile da trovare. Sono più creativi i giovani e le femmine per un motivo molto semplice, sono ultimi nei turni alimentari. Quindi siccome mangiano di meno perché mangiano prima i vecchi maschi, devono arrabbattarsi di più e sviluppano più comportamenti creativi. Questo significa che i vecchi maschi privilegiati sono, non solo tra gli animali, tipicamente poco creativi. La creatività animale si diffonde come nuovi costumi all'interno delle comunità. Per gli esseri umani è tutto diverso, noi siamo veloci, il nostro pensiero è finalizzato, gli ambiti di applicazione della creatività sono amplissimi, dalle altre, le scienze, la tecnologia, dicevo, la cucina, lo sport. Quello che ci muove non è tanto il bisogno di mangiare, ma è la curiosità e la sfida. E l'insoddisfazione. Chi è creativo non è mai soddisfatto, è un'anima tormentata, è un po' un'anima in pena. La creatività è insieme l'esito e la medicina dell'inquietudine. Siamo creativi quando c'è un'alta pressione individuale sull'eccellenza, cioè non nei posti che tollerano l'assenza di merito. Siamo creativi in situazioni meritocratiche, avendo a disposizione tutti gli strumenti necessari. Non è esattamente la situazione delle nostre università. Chi è creativo? Giovani, acculturati, sfidati, ma anche anziani in tutte le discipline umanistiche, cioè quelle che riguardano non un uso superintensivo di energie intellettuali, ma un uso costante, esteso e in possesso di un grande magazzino di esperienze. È difficile che uno, che un fisico o un matematico tocchino il picco della loro creatività a 60 anni, si riescono molto più da giovani. È possibile che un romanziere tocchi il picco della sua creatività, o un pittore, o un musicista, tocchi il picco della sua creatività anche da anziano. Perché alcune persone sono più creative di altre? Siamo più creativi degli animali, e l'ho già detto, perché abbiamo incominciato a parlare circa 200.000 anni fa, e perché il linguaggio ci permette di trasmetterci cultura. Alcune persone sono più creative delle altre, perché hanno un po' più talento, ma soprattutto perché hanno una grande tenacia. il mestiere della creatività è un mestiere per gente tosta. Sono tenaci, ma possono essere ostinate, sono consapevoli, ma possono diventare narcise, e anche un po' per potenti, e anche per malose. Non sono incentivate dal denaro, ma sono incentivate dal riconoscimento, e dall'onore sociale. Sono severe con se stesse, molto, e sono più... Uno che non è esigente con se stesso, difficilmente, è creativo e viceversa. Possono diventare depresse, perché si bastonano troppo. Infine, sono giocose, ma possono essere infantili. Questo è un repertorio di una serie di studi grossi, psicologici, sulla creatività, fatti anche di recente. Questo significa che non è facile essere creativi, non è facile negoziare con le persone molto creative, eminentemente creative, ma può valerne la pena. Un'ultima domanda, è vero che per pensare in maniera creativa bisogna smettere di ragionare? No. Bisogna, come dicevo prima, alternare pensiero logico e pensiero analogico. Parole e metafore spaziali, elementi visivi ed elementi verbali. Sapendo che il salto creativo, comunque di solito, avviene sempre, lo dice anche Einstein, dice a un certo punto, io prima vedo le mie soluzioni, poi le elaboro. Spessissimo le metafore della creatività ci parlano in chiave visiva, spessissimo il primo insight creativo avviene in chiave visiva. bisogna vedere con gli occhi della mente. Infine, la creatività è fatta di diversità e mai come oggi dobbiamo ricordarlo. Numerosissime ricerche ci dicono che i gruppi creativi sono tanto più produttivi, quanto più le persone sono diverse per età, provenienza, cultura, gusti, abitudini, che le diversità di genere, di visione del mondo, di formazione, sono fondamentali per mettere a punto risultati davvero creativi. Quindi sono più creativi le società aperte, quelle tolleranti e quelle che accettano e valorizzano la diversità. Questo significa, e con questo chiudo, questa presentazione, che la creatività, dicevo, è un percorso difficile, è un percorso sfidante, è un percorso appassionante, è un percorso in cui si sta soli e in cui spesso si inciampa. ma risollevarsi e arrivare poi alla meta è straordinario proprio perché si è corso il rischio di inciampare. Quindi percorrere strade creative significa anche affrontare qualche rischio e sapere che chi non fa non sbaglia, ma che non fare per non correre il rischio di sbagliare non è una buona idea. Quindi, come ci dicono tutti, anche i guru della creatività e del sviluppo personale, sbagliamo allegramente senza perdere direzione sapendo che di sbagli è poi la stricata la strada che ci porta alle soluzioni nuove e utili. Grazie. Applausi